Benvenuti cari follower, prima di entrare nei dettagli. Se non vedi l'ora che arrivi l'inverno e stai aspettando con impazienza l'inizio delle forti nevicate in Italia, premi il pulsante Mi piace per questo video. Inoltre, non dimenticate di incoraggarci iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notificie. Quindi, un fantastico aggioramento dal modello europeo, quello odierno, che segnala l'ingresso di un fortissimo temporale sull'Italia, accompagnato da aria molto fredda di origine polare. Questa tempesta raggiungerà l'Italia negli ultimi giorni di questo mese, novembre 2023. Nello specifico, a partire dal 25 e 26 novembre 2023, fino alla fine del mese. Questo temporale porterà con sé abbondanti nevicate a quote molto basse e in grandi quantità, soprattutto al nord e al centro Italia, per poi estendersi anche al sud, con una forte ondata di freddo, gelate e clima invernale per eccellenza. Pertanto, gli aggiornamenti sono ancora confermati da tutti i modelli digitali globali, che prevedono una forte discesa polare che raggiungerà l'Europa occidentale e l'Italia, e porterà con sé piogge molto forti e abbondanti nevicate, di cui vi forniremo maggiori dettagli in seguito. Aspetta, enormi quantità di pioggia e neve attendono l'Italia pochi giorni dopo.